oi vita oi vita mia oi core e chiss tu core si state o prima amore o prima e l'ordimo sarai per me zanzà gattuso beccati sta pena 1 a 0 inter napoli bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video ragazzi ragazzi grandissima grandissima importantissima vittoria ieri contro un bel napoli perché adesso scherzi a parte canzoni a parte ieri il napoli onestamente ha fatto una bella partita ha giocato forse anche meglio di noi quindi è giusto ammetterlo e rendere onore a un avversario che secondo me arriverà fino in fondo in questo campionato andremo a braccetto insieme insieme alla juve sicuramente chissà il milan quindi ieri ottima vittoria era importante vincere più che convincere e devo dire che oggi è difficile un pochino fare le pagelle ma su tutti di sicuro migliori in campo andanovic ieri ha fatto delle bellissime parate importantissime la difesa ha giocato bene darmian una nota veramente particolare per questo giocatore che è arrivato all'ultimo giorno di mercato ma ogni volta che conte lo mette in campo da sempre il suo contributo ieri si è guadagnato addirittura il calcio di rigore che ci ha permesso di vincere la partita assegnare il quinto gol in cinque partite consecutive a san siro di lukaku che eguaglia cristian vieri in questo particolare record quindi un plauso anche a lukaku che è un trascinatore insormontabile di questa inter in questo primo anno e mezzo di inter ora vediamo siamo a meno uno dal milan il milan che ha pareggiato le ultime due partite forse forse non so sta iniziando un piccolo calo per il milan che ricordiamo non punta lo scudetto ma sta facendo una grandissima stagione quindi complimenti anche al milan per quello che sta facendo in questo momento noi siamo fuori da tutto quindi mi raccomando ragazzi lo scudetto deve essere il nostro primo obiettivo non nascondiamoci perché è importantissimo quest'anno tornare alla vittoria abbiamo la rosa più forte abbiamo l'allenatore più pagato non smetterò mai di dirlo queste due cose devono far sì che l'inter quest'anno riporti lo scudetto a milano sponda nero azzurra il numero 19 non ci sono scusanti scudetto e possibilmente ciliegina sulla torta coppa italia comunque adesso affronteremo la prossima partita forse con lo spezia o non mi ricordo con l'ella sferona una delle due mi raccomando partite importantissime non cadiamo ora che abbiamo battuto una grande non andiamo a perdere punti stupidi fuori casa con le squadre un pochino più piccole perché poi si pagano sono quelli che si pagano di più quindi forza inter ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate scrivete nei commenti iscrivetevi al canale forza inter sempre ciao